Fisco contro l'accanimento ispettivo verso le imprese serve un coordinamento. Confì di imprese in assemblea a Pordenone il 9 maggio. Cambio al vertice della categoria degli autotrasportatori. Alcol, guida e lavoro, un corso in collaborazione con l'azienda sanitaria. Energia, ridurre i costi si può. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TGA di Confartigianato Pordenone. Il ministro Tremonti ha recepito quanto le organizzazioni imprenditoriali denunciano da sempre combattere l'oppressione dei controlli nei confronti delle imprese. Ma non dimentichiamo che l'accanimento ispettivo è figlio della cultura del sospetto verso gli imprenditori e genera la complessità e gli alti costi della burocrazia italiana. Basti dire che in ambito fiscale solo 4 addempimenti, 7,70, dichiarazione IVA, comunicazione annuale e rimborsi IVA, costano di pura burocrazia al sistema delle imprese italiane oltre 2,7 miliardi di euro. Poche regole e più certezza nella loro applicazione e l'obiettivo cui tendere, applicando anche un reale principio di gradualità per dimensioni di impresa e per settore di attività. Così Silvano Pascolo, presidente di Confartigianato Pordenone, commenta le dichiarazioni del ministro dell'Economia. Secondo Pascolo sarebbe auspicabile creare un coordinamento delle attività ispettive nei diversi ambiti fisco, lavoro, ambiente, eccetera, per evitare agli imprenditori il supplizio dei reiterati controlli a tempi ravvicinati, quando addirittura non sovrapposti. Ma soprattutto, aggiunge Pascolo, occorre sfoltire la mole di norme e addempimenti che si sono stratificati nel tempo e sui quali, una volta introdotti nell'ordinamento, non viene effettuata alcuna misurazione del loro reale utilizzo da parte dell'amministrazione. Con oltre 338 milioni di euro di finanziamenti garantiti e un consolidamento della base sociale, Confì di imprese Friuli Venezia Giulia si appresta ad affrontare, lunedì 9 maggio, alle 18 presso la Sala Congressi della Fiera, l'Assemblea Provinciale di Pordenone. Dopo l'importante crescita registrata negli ultimi anni, il 2010 è stato l'anno decisivo per il consolidamento di Confì di imprese Friuli Venezia Giulia, spiega il Presidente Daniele Nonino. La forte crescita del 2009 era dovuta al fatto che con la crisi al suo ACME c'è stato un massiccio ricorso al Confì di per tamponare le esigenze più urgenti. Nel 2010 il momento acuto di difficoltà è stato superato. Dal punto di vista finanziario, nel 2010 abbiamo registrato un'interessante nuova disponibilità al credito, sempre nell'ambito di una grande cautela bancaria. I primi mesi del 2011 non presentano ancora la forte svolta tanto attesa, ma alcuni fattori stanno incrementando. Confidiamo che migliorino in misura sufficiente per dare veramente respiro alle nostre imprese. Anticipando i contenuti della relazione, Nonnino lancia anche una proposta per il futuro, partendo dalla considerazione che sia inevitabile considerare le aggregazioni anche alla luce dell'evoluzione nel mondo del credito. Da parte nostra consideriamo con grande attenzione la possibilità di porre in essere forti relazioni tra i confidi interessati, anche giungendo alla costituzione di una federazione come quella realizzata dal mondo delle banche e di credito cooperativo, che possa offrire ai confidi aderenti economie di scala e miglioramento professionale, pur garantendo la massima autonomia e libertà nella concessione di garanzia ai singoli confidi aderenti. Dopo tanti anni trascorsi alla guida della categoria degli autotrasportatori di merci, Liberale Presot lascia e passa il testimone a Mauro Beccaro. L'elezione è arrivata al termine dell'Assemblea degli Autotrasportatori, che ha eletto il nuovo consiglio direttivo e quindi il capo categoria e due vice. Beccaro dunque il nuovo riferimento delle imprese artigiane del settore, affiancato da Daniele Biasotto e Arnaldo Corradini. Gli altri componenti del consiglio sono Pasquale Agnoletto, Romano Ballarin, Mauro Dalcin, Danilo Spada, Michele Turchette, Claudio Ugosetti e Sergio Zanette. A Liberale Presot è andato il ringraziamento per tanti anni di impegno a favore della categoria. Il servizio di alcologia e il servizio protezione e sicurezza del lavoro dell'azienda sanitaria e Confartigianato Pordenone intendono organizzare un corso informativo rivolto agli artigiani che fanno della guida la loro mansione lavorativa e della strada il loro cantiere. Il corso si impernia su quattro incontri serali di un'ora e mezza che hanno come argomenti alcol e salute, alcol e guida, alcol e lavoro, sia sotto l'aspetto normativo che pratico, ovvero la prova dell'etilometro. Il corso sarà tenuto da operatori dei due servizi e dovrebbe iniziare prima dell'estate, presso la saletta a riunioni del servizio di alcologia in via Monteriale a Pordenone. Il corso è gratuito e verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per le iscrizioni è possibile rivolgersi all'ufficio formazione di Confartigianato Pordenone. Con l'obiettivo di venire incontro a tutte le esigenze delle aziende, comprese quelle di risparmio dei costi anche energetici, Confartigianato Imprese Pordenone ha costituito, insieme ad altre associazioni del sistema Confartigianato del Nord-Est, il CAEM, Consorzio Artigiano per l'Energia e le Multi-Utility, con lo scopo di acquistare sul libero mercato energia elettrica e gas a prezzi decisamente più convenienti di quelli applicati al singolo. In questo modo le imprese aderenti al Consorzio riducono i propri costi di approvvigionamento. È possibile per le imprese aderenti a Confartigianato valutare gratuitamente i consumi e confrontare i costi applicati dal fornitore attuale e quelli strappati dal Consorzio ai grossisti di energia e quindi esaminare le possibilità di risparmio, anche significativo, che si potrebbero ottenere. L'Ufficio Ambiente ed Energia di Confartigianato Pordenone è a disposizione per la valutazione dei consumi e dei prezzi di fornitura. Per il telegiornale è tutto, ci risentiamo la prossima settimana e buon proseguimento di giornata. Arrivederci! Grazie a tutti!